In occasione della conferenza stampa che si terraffora non molto per quanto riguarda la Sardegna, Nord e Cetacei, dobbiamo dare un molto risalto alla mostra fotografica presentata da Mirko Ugo. Una mostra fotografica denominata un millesimo di secondo. Perché questa scelta così tecnica? Un millesimo di secondo perché è lo scatto veloce. La gran parte di queste immagini sono scattate appunto a un millesimo di secondo o di più, due millesimi, per fermare il momento perché sono animali che si muovono velocemente e quindi per rappresentarli in salto, per vedere giochi d'acqua durante le acrobazie di questi animali. Quindi è uno scatto veloce. E' uno scatto veloce che imprime tutte le più belle immagini ma anche il contorno che vedo appunto gli spruzzi del mare che si vedono molto bene. Sicuramente è bello anche il mosso in alcuni scatti, in questo caso però ho voluto dare priorità all'immagine bloccata. Ecco qui ci sono 35 poster tutti di Cetacei. Ma qual è il più bello scatto? Beh, sicuramente questa è una foto a cui tengo, è una foto che a me piace molto perché è un salto di una stenella che si specchia sull'acqua. Poi ancora un altro, un altro ancora? Questo perché? Questo è un tramonto che ho cercato, insomma, sono riuscito a ottenerlo con un po' di fatica perché appunto cercavo un gruppo di delfini e ho cercato di immortalarli in un momento, insomma, alla fine di una giornata con dei colori che non sempre è facile. Ecco, ma anche di notte escono i delfini, no? Sì, ma noi non li vediamo. Esatto. Poi qualche altro ancora? Ecco, questo che lo rappresenta? Sicuramente anche questo perché questa è una posizione particolare, abbastanza insolita vedere un delfino che in questo caso ci mostra la pancia anziché la pinna. Quali sensazioni provi quando vedi queste cose? Sempre emozioni forti. Ecco qui è rappresentato proprio il momento in cui la barca, noleggiata appunto per questo progetto, sta seguendo una balenotta. Ecco, è la cosa più bella questa che mi pare. Sì, beh, questa rappresenta l'attività di ricerca, l'attività sul campo che è stata fatta quest'anno con l'imbarcazione all'Areol. Sì, mi piaceva rappresentare appunto l'attività. Quindi tu hai preso sia la barca che il coro perché era significativa che sta svolta? Significativa, sì, significativa dell'attività di ricerca che è stata svolta quest'anno. Come fotografo qui c'è davvero da vedere molte belle cose. che cosa ti ha spinto, diremmo così, a prendere la macchina fotografica e scattare fotografie di questo tipo ma anche di altre? Sono cresciuto con la macchina fotografica perché mio padre era un appassionato di fotografia e quindi mi ha trasmesso questa passione. Da quanti anni? Tanti anni, sì. Ora seguirete altre cose, quindi buon lavoro in seguito a tutto questo lavoro che avete fatto che è veramente bello, interessante e buona fortuna per quanto riguarda appunto la ricerca di questi cittadini che sono difficili da trovare. Sì, difficili però con un po' di occhi attento è facile osservarli in arcipelago. La gran parte di queste immagini sono scattate in arcipelago, alcune un po' in alto mare però con un po' di occhi attento è alla portata di tutti. Quando tu hai la macchina fotografica per cogliere l'attimo appunto in cui tu prendi cosa, che cosa pensi? Dove andrà, dove non andrà? Ce la farò a fare questa fotografia? Beh, nel tempo, è chiaro che gli animali non vanno disturbati, sì sì sì, silenziosi e aspettare magari che ci sia un avvicinamento da parte loro senza andare a disturbarli troppo. Questo è Mirko Ugo che appunto ha presentato tutte queste belle fotografie che potranno essere viste per tutta la giornata di oggi anche perché meritano davvero l'attenzione di tutti. Sono veramente belle. Grazie. Complimenti. Grazie. Grazie.